Università e industria vanno a braccetto per difendere la terra dalle insidie che arrivano dal sole. È iniziata la collaborazione tra il gruppo Space Weather del Dipartimento di Fisica dell'Università di Tor Vergata e le industrie high-tech con il finanziamento della Regione Lazio. L'obiettivo di questa particolare alleanza è realizzare il prototipo di una banca dati con tutte le informazioni sulle condizioni dello stato fisico dello spazio nelle vicinanze della Terra, a cui si aggiungono software per selezionare e visualizzare i dati rendendoli leggibili dalle industrie che ne faranno richiesta. Perché? Per difendere il loro patrimonio tecnologico. La nostra stella è di vitale importanza per la sopravvivenza sulla Terra, tuttavia alcuni fenomeni ad essi associati sono particolarmente pericolosi per i sistemi tecnologici che siamo abituati a usare. Alcuni eventi potrebbero essere estremamente rischiosi, in quanto una buona percentuale di satelliti potrebbero smettere di funzionare, lo spiega il professor Francesco Berrilli del Dipartimento di Fisica Solare dell'Università di Tor Vergata, alla presentazione alla banca dati di Space Weather nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana.